Presidente, io capisco l'insensibilità del Governo che è nel... Lasciate le fila a tutti che escono dall'Aula, evidentemente gli interessa poco l'argomento che aveva anticipato e mi sorprende che il Governo e i colleghi vadano fuori dall'Aula, evidentemente il cibo è più importante della sicurezza dei cittadini di questo Paese. Prego, colleghi, per favore! Prego, deputato Federica, faccia il suo servento. Presidente, a nome del gruppo della Lega, le chiedo di fare presente al Governo che il Presidente del Consiglio dei Ministri venga quest'oggi in Aula a riferire sulla presenza di terroristi su territorio nazionale che arrivano tramite barconi dal Nord Africa, sul nostro territorio. Presidente, no, voglio solo sottolineare che purtroppo da mesi denunciamo questo pericolo e abbiamo avuto un Ministro che quando sono intervenuto precedentemente rideva in quest'Aula e ci dava degli sciacalli. Vogliamo, Presidente... No, le preannuncio che se il Presidente del Consiglio dei Ministri non ha nulla gli impegni e non vieni in Aula oggi a riferire e rispondere ai cittadini di questo Paese sulla presenza di terroristi in Italia, la Lega utilizzerà tutti i mezzi che ha a disposizione... Colleghi! Dopo vedremo se urlerete, dopo vedremo se farete i fuggi... Allora, deputato Federica, abbiamo una capigruppo, quindi possiamo formalizzare questa sua richiesta anche in capigruppo. Capigruppo, bisogna rispondere alla sicurezza dei cittadini italiani. Grazie!